Ciao e bentornati qui sul mio canale, allora come avete visto a distanza di 8 mesi ho rivoluzionato la mia scrivania e ho deciso di fare una follia, ma calcolata, nel senso che questa idea mi girava in testa da parecchio tempo, un televisore OLED al posto del normale monitor per computer, ben 55 pollici di schermo per lavorare e divertirmi, l'ho fatto e non me ne pento, anzi sono felicissimo del risultato e con l'occasione ho razionalizzato anche gli spazi sulla mia scrivania motorizzata creando un setup secondo me ancora più pulito ed elegante, ma poi magari mi direte voi qui sotto con un commento o semplicemente lasciando un like, ma siccome so già che me lo chiederete si perché lo farei anche io, beh ecco la scrivania motorizzata, la sedia, le casse, insomma gran parte di questo setup lo avete già visto nei miei precedenti video che mi invito a recuperare se vi interessa qualcosa in particolare, perché qui invece il protagonista di tutto è questo magnificente TV OLED da 55 pollici in 4K di Metz, l'MOC 9000Z, il top di gamma di Metz, che è un brand tedesco con ben 83 anni di storia e, fun fact, Metz è anche il TV sponsor della Juventus per il 2021, questo per dirvi che è un brand magari meno conosciuto di altri, ma con un'altevole storia ed esperienza alle spalle, ma questo ci interessa fino a un certo punto, direi che la cosa più divertente invece è stato portarlo fin quassù nello studio e prepararlo per il montaggio, vi confesso che avevo si preso le misure, ma non ero sicuro fino in fondo se in realtà ci sarebbe stato per davvero sulla mia scrivania e soprattutto se avessi avuto le proporzioni giuste, fin tanto che non l'ho montato, alzato e posizionato bello bello ai margini della mia scrivania che per informazione è lunga 140 cm e profonda 80, questo giusto per darvi l'idea delle proporzioni e uno spunto magari qualora vogliate imitarmi, la resa visiva è impressionante, la TV domina assolutamente riempiendo la vista della scrivania e vi confesso regalandomi fin da subito una sensazione di piacere ancor prima di collegarlo alla corrente ed accenderlo, questo Metz OLED secondo me è esteticamente appagante, saranno i bordi praticamente senza cornice, saranno le linee minimali, anche della bella base in metallo che lo tiene in piedi in maniera peraltro molto stabile tanto che non si muove nemmeno quando vado ad alzare o ad abbassare la scrivania, o magari sarà lo spessore millimetrico tipico degli OLED ma a livello visivo secondo me ora la mia scrivania ha alzato ancora di più l'asticella a livello puramente estetico. Paradossalmente poi un 55 pollici grazie alla base piuttosto compatta finisce per occupare alla fine meno spazio sulla scrivania di un normale monitor tanto che lo spazio tra me, lo schermo e tra la tastiera e lo schermo è piuttosto generosa, è come se mi desse anche tanto respiro, parlo sempre in maniera figurata a livello di sensazioni e di piacevolezza nel lavorare alla scrivania sia in piedi che da seduto, il Metz poi ha 3 porte HDMI, 2 porte USB A, la Ethernet, il cavo digitale terrestre, già compatibile con il DVB-D2 e anche quello satellitare qualora si voglia utilizzare la TVSAT, ma io ho utilizzato un'unica connessione, l'HDMI con il quale ho collegato il mio Mac Mini che come vedete ho opportunamente spostato lateralmente perché non poteva certo stare sotto la TV e nemmeno davanti, ma vi dirò, ho scoperto che questo è il setup definitivo appoggiato al suo stand così da avere tutto a portata di mano meglio ancora di prima, quindi top! Già ma la domanda è, conviene utilizzare un TV invece che un monitor collegato al Mac? Dipende come sempre tutto da cosa volete fare con il vostro computer, io ad esempio ho bisogno di tanta superficie per lavorare con più finestre aperte contemporaneamente, quando seleziono ad esempio le migliori offerte per il mio canale Telegram delle offerte devo tenere almeno due finestre del browser aperto oltre ovviamente a Telegram, a proposito se non siete ancora dei nostri trovate il link al canale Telegram in descrizione. Come vedete voi stessi poi con un TV da 55 pollici è come se avessi 4 monitor da 27 pollici in full HD uno a fianco all'altro ed è un enorme vantaggio se appunto come me si lavora con tanti task e programmi aperti, oppure se come nel mio caso fate anche video editing, io lavoro con Final Cut, lo sapete? Perché lavorare così è favoloso perché ho spazio sufficienza per l'intera interfaccia ma volendo anche per tenere uno o due programmi aperti senza sovrapposizioni, per me lo confesso una vera favola. L'MOC9000Z poi come vi dicevo sostiene il gioco alla grande da parte sua, 4K di risoluzione con HDR, un framerate a 120Hz e non teme assolutamente un utilizzo del genere e soprattutto ho notato che non ha fatica eccessivamente la vista nonostante io sia comunque a una distanza piuttosto ravvicinata. Questo grazie ovviamente anche ai vantaggi dell'OLED che come sapete è in grado di illuminare ogni singolo pixel singolarmente, quindi non c'è una lampada che ti spara la luce in faccia regalando immagini più realistiche e meno afflitte da luci blu, ma grazie anche alla tecnologia flicker free di cui è dosato questo Mets, certo lo ammetto talvolta devo spostare la testa per arrivare da una parte all'altra del display, ma per me è fantastico, inoltre come vedete il pannello non è perfettamente perpendicolare ma è inclinato di 3,5 gradi, perché proprio 3,5? Beh perché è la posizione naturale di inclinazione di uno smartphone quando lo si tiene davanti agli occhi, provate a farci caso, sicuramente non lo tenete dritto ma lo terrete leggermente inclinato, 3,5 gradi appunto e questo favorisce il comfort visivo e in parte attenua eventuali riflessi. Io comunque come vedete mantengo un comfort visivo utilizzando anche una lampada da tavolo di cui vi ho già parlato e che mi consente di regolare l'intensità di luce e di calore ma anche di direzionarla proprio nella zona di lavoro senza andare a creare fastidiosi riflessi. Certo non essendo un monitor ma una tv, lei non ha tutte quelle funzioni tipiche dei moderni, monitor ad esempio l'hub integrato o la possibilità di alimentare un pc con la usb c ma però è un po' più indipendente quindi va accesa e spenta separatamente ovviamente col suo telecomando video che come vedete di quelli moderni quindi coi tasti personalizzati di Netflix, Prime Video, YouTube e anche il microfono. E allora qui apriamo il capitolo Smart TV, capitolo piacevole perché il Mets ha a bordo Android TV e apre uno scenario ampio per quello che riguarda l'aspetto che alla fine è quello fondamentale oggigiorno, cioè le app da installare per poter vedere tutti i servizi di streaming on demand, musica, social network, insomma c'è il Play Store quindi non ci sono problemi né di sviluppo né di aggiornamento delle app, anzi c'è persino ad esempio Stadia no? A proposito per giocare c'è anche una modalità bassa latenza oltre che ovviamente la certificazione Dolby Atmos e Dolby Vision e c'è anche la Chromecast integrata, completare un ecosistema smart che di fatto consente di farti fare qualsiasi cosa oggi si voglia richiedere a una moderna Smart TV e anche qualcosina in più. Già perché come vi dicevo lei ha sia il microfono sul telecomando col suo tastino dedicato ma anche la funzione Ok Google. Ok Google, che tempo farà oggi? A Bolzano oggi sarà prevalentemente soleggiato. Ok Google, metti un video di Manuel Agostini su YouTube. Perfetto, metto video di Manuel Agostini su YouTube. Che lo sapete consente di attivare tutta una serie di comandi vocali sia per eventuali dispositivi connessi già presenti nella vostra abitazione ma ovviamente anche per comandare vocalmente la TV stessa, alzare e abbassare il volume, aprire Netflix, YouTube o Prime Video ma anche fare ricerche o chiedere il meteo, insomma chi più ne ha più ne metta. Ad ogni modo sul retro c'è un tastino fisico, uno switch che esclude il microfono fisicamente, così da garantire la privacy qualora lo si desideri. E infine se volete, si lui potete utilizzarlo anche come TV classica, io non l'ho fatto perché non mi interessava, ma questa TV Mets è naturalmente già compatibile con nuovo digitale terrestre e come vi dicevo anche col tuner satellitare ed è dotata anche di LCN che ha il sistema di numerazione dei canali. Ma di più appunto non vi posso dire perché come avete visto io l'ho scelto per un altro tipo di utilizzo, utilizzo che si lo metto, forse è un peletto overkill, probabilmente non è adatto a tutti, ma a me piace sempre alzare un po' la sticella e mi piace sperimentare anche strade poco consuete, soprattutto quando si parla di tecnologia e in questo caso sono proprio contento, la scrivania è ancora più bella per quello che mi riguarda ma soprattutto ci lavoro alla grandissima, grazie anche alla sorprendente potenza del mio Mac Mini modello base che se ci pensate è assurdo per quello che l'ho pagato, ma ovviamente sono curioso di sentire che ne pensate voi di questo mio nuovo setup qui sotto nei commenti e se avete domande sarò ben lieto di rispondervi, per il resto non posso fare altro che ringraziarvi. Grazie da Manuel Agostini, noi ci vediamo per un prossimo video sempre qui sul mio canale YouTube. Grazie.